Allora Giorgio, com'è questo carro di Francioni e questa mascherata di Mastromarino? Che devo dire, il lavoro è bello per forza, non mi fa di che è brutto. E beh, oltre a questo? Basta, non c'è niente altro da dire. A posto. E te, Liffi, com'è questo carro e questa mascherata? Stiamo sbagliando un po' sull'attacco, perché la nostra Eleonora Francioni ha un po' perso il piede. Il nostro centrocampista Antonio Mastromarino si sta comportando bene, la mascherata è finita e speriamo di fare una buona giornata. Va bene, va bene. Arrivederci. Ma che cazzo mi vuoi fare?